E dire che lui è juventino, in passato infatti aveva già sfoggiato la maglia bianconera sull'altare, ma questa volta per far felice lo sposo ha deciso di mettere da parte la fede calcistica e lanciarsi in una delle sue performance che spopolano sul web. Che dire Don Bruno Maggioni, parroco della comunità pastorale di Marnio, una ne fa e cento ne pensa. Istrionico, sempre pronto a spendersi per gli altri, dotato di uno spirito e una simpatia davvero unici, in questo caso, ha raccolto il plauso niente po' di meno che del famoso bomber argentino Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter ha infatti condiviso sui social l'ultima performance del prete canterino, raccogliendo più di centomila visualizzazioni. Location, la chiesa di San Lorenzo a Ballabio, dove il nostro Don Bruno stava celebrando un matrimonio durante la messa, come già accaduto in passato, ha invitato i fedeli a cantare Mamma Maria battendo le mani. Quindi si è spogliato dell'abito talare, svelando la maglietta dell'Inter con il numero 9 di Cardi, un omaggio allo sposo, probabilmente tifoso neroazzurro. Per lui, nemmeno a dirlo, tifo da stadio, mentre Icardi, sui propri profili Instagram e Facebook, ha condiviso il video commentando «Questo signore è un fenomeno». Sono emozionato e incredulo la replica dell'amatissimo Don Bruno, che siamo certi, in futuro, ci regalerà altre simpatiche performance.